Dalle attività ispettive di polizia stradale ai servizi di ordine pubblico durante l'emergenza covid-19 sono stati molteplici gli impegni dei 14 agenti di polizia provinciale di Salerno così come emerso dal report sulle attività del 2020 presentato questa mattina dal comandante l'architetto Angelo Cavaliere dal presidente della provincia di Salerno Michele Strianese. In campo contro il covid ma anche a difesa dell'ambiente a tutela della sicurezza ambientale in generale a servizio della comunità nella prevenzione. Ad un passo dall'essere eliminato dalla riforma del Rio il corpo passato da 50 a 14 rappresentanti ha mostrato di poter essere più che utile ed il presidente Strianese ha utilizzato la conferenza stampa di questa mattina presso la sede della polizia provinciale anche per assegnare un encomio a tutti e 14 gli agenti di polizia provinciale. Nel corso dell'incontro il comandante Cavaliere ha ricordato anche l'intervento per spegnere un incendio e da dirigente della provincia di Salerno proveniente dal settore ambiente ha sottolineato anche il lavoro dei suoi uomini in questo ambito teso alla repressione dei fenomeni relativi all'abbandono indiscriminato di rifiuti o a sopralluoghi sui depuratori. Il grande sforzo che è stato fatto da un manipolo di uomini sapete che le province sono state decimate dalla riforma del Rio il corpo di polizia è passato da 50 unità a 14 unità ed io ho avuto l'onore di avere questo incarico non poco più di un anno fa diciamo che mi sono trovato nel periodo peggiore per la riorganizzazione del corpo abbiamo svolto sotto il controllo costante e permanente della prefettura e della questura il servizio di misure di prevenzione dell'epidemiologia siamo stati impegnati nella prima fase allora quando non c'era il coordinamento molto sulle zone turistiche per via del degli spostamenti che si furono fatti durante quel periodo prima ancora che fosse tutto coordinato dalla prefettura della questura devo dire che accanto a questo comunque non abbiamo tralasciato quelli che sono i compiti istituzionali infatti abbiamo lavorato molto anche in materia ambientale svolgendo numerosi controlli anche in questo periodo che sono stati anche molto proficui oltre che la normale attività sulla di sulla sicurezza stradale